buon oggi assaggiamo gli akitori sono questi qua ovviamente che sono questi qua questi spiedini qua di pollo con la salsa di soia sono una ricetta giapponese giusto giapponese e li assaggiamo e li assaggiamo per così provare qualcosa di nuovo questi qua vedete hanno lo stacchino sono di pollo almeno spero che sia pollo il profumo è buono non sono male non sono male non ho capito bene cosa c'è dentro ma non sono male e niente quindi adesso li mangiamo io vi lascio giù il nome del piatto ovviamente come sempre nella descrizione e al prossimo video ciao a tutti